Allora come è andato questo viaggio fino adesso? Il viaggio è bene perché lo spirito è buono, positivo, ovviamente la preoccupazione è anche, aspettiamo di arrivare a Roma. Avete notizie dei vostri colleghi di Taranto? Sì abbiamo notizie, li vedremo giù, non sappiamo ancora quanti però li vedremo giù. Abbiamo due pullman anche da Novi, uno da Raconigi, uno da Marghera, ci coordineremo e ci vedremo tutti sotto Palazzo Chigi. Quello che sta succedendo in Taranto interrompe l'approvvigionamento di acciaio a voi e non vi fa più lavorare così? Esattamente, Taranto fa la produzione dell'acciaio italiano e rifornisce la filiera siderurgica di tutta la filiera italiana, quindi Genova, Racconigi, Novi Ligure, Marchiera e altre piccole fabbriche sempre del gruppo Riva.